No, guarda, veramente non mi va. Ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri e... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle dieci state tutti lì a ballare i girotondi e io me ne so buttata in un angolo? No, no. Se si balla non vengo. No, no, non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne so in disparte o se non vengo per niente? Sì, dai, vengo. Vengo e mi metto vicino alla finestra, incontro luce di profilo e voi mi fate... Dai, Ali, vieni, vieni, vieni di là con noi. E io... Andate, andate, vi raggiungo dopo. Sì, dai, vengo. Vengo, ci vediamo là. No, guarda, senti, no. Non vengo, non mi va. Ciao.